Proviamo in anteprima Tales of the Shire, in sostanza Animal Crossing ma in versione Signore degli Anelli Questo gioco uscirà il 25 marzo 2025 e noi stiamo testando diciamo in anteprima la beta Andiamo a dare un'occhiata perché beh è un cosy game e sapete che comunque giochi un po' in stile Animal Crossing mi piacciono Quindi giocheremo praticamente ad Animal Crossing nella Contea Questo gioco ovviamente sarà disponibile anche su Nintendo Switch quando uscirà ma anche su PC e le altre console Allora il nostro personaggio è nella Contea ed è ovviamente un Hobbit perché nella Contea non possiamo essere altrimenti E il tutto si nota dai piedoni che abbiamo perché gli Hobbit hanno i piedi grandi rispetto al fisico Vabbè ma chiunque conosce il Signore degli Anelli e anche le persone più piccole di questo mondo che sono appena nade Hanno una minima data del Signore degli Anelli quindi non devo spiegarvi alcune cose La parte figa di questo gioco rispetto a tutti gli altri cosy game che è italiano e doppiato in italiano Sì Sì Perché non tutti sono doppiati in italiano e questo invece lo è Possiamo creare il nostro personaggio quindi Abbiamo corpo cioè posso decidere il pelo nei piedi fantastico Quindi possiamo decidere la corporatura ma l'unica cosa che noto che cambia è che o è incinta o ha il seno Cioè non lo so Questa mi sembra tipo la posa di una che aspetta un bambino ma non è il nostro caso quindi io opterei per quella con il seno prosperoso Allora qua possiamo aggiungere peso possiamo fare un Hobbit grasso o un Hobbit magro o una via di mezzo Ma non ho capito perché stanno così mi sembrano le pose di Dress Twin Press Qui andiamo a selezionare i capelli siamo degli Hobbit bruttarelli Possiamo anche cambiare le sopracciglia però io le sopracciglia pelose non le voglio Anche se No terribile questa secondo me è la migliore Colore dei capelli Noi ne abbiamo tanti colori disponibili abbiamo il biondo il Questo che è c'è biondo cenere Un tipo rossiccio Vabbè non sono così bionda però va bene lo stesso Possiamo anche selezionare la testa e le orecchie Ok questa va bene adesso andiamo a vedere le orecchie Troppo grosse Troppo piccole Troppo piccole queste Forse le prime erano le migliori Vediamo queste Queste sono normali Queste qua a punta Queste qua a punta mi piacciono Adesso tocca agli occhi cerco di andare veloce perché se no sto cent'anni a fare il mio personaggio E i piedi Il pelo nei piedi Sinceramente essendo una donzella non vorrei tutto sto pelo Ecco meno pelo Non perché le ragazze non hanno i peli ma non mi piace vedere i peloni nei piedi Anche se potremmo metterli Vabbè dai li mettiamo giusto per averli Ok il nostro Hobbit non capiamo perché sta così E' pronto Ah adesso possiamo scegliere i vestiti Effettivamente è bruttino questo vestito Mi metto questo Invece come parte di sotto I pantaloni non mi piacciono Madonna No vabbè ragazzi i pantaloni costi i piedi Sono terribili Lightning Due piedi Ferma Oi Gandalf Ragazzi io non posso vedere quei piedi pelosi Ok in pratica Gandalf ci ha lasciato qui Dove sicuramente noi dovremmo dare vita alla nostra diciamo contea Cioè esteticamente Gandalf non mi piace Non è abbastanza Gandolfo ecco Comunque ci ha lasciato qui stavo dicendo Dove probabilmente dovremmo curare la nostra contea Allora graficamente io lo sto giocando da pc in questo momento Quindi la beta ce l'ho su pc su switch sicuramente la grafica sarà Meno 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 Però vi devo dire che non mi dispiace Comunque è un po' cartoon però non è nemmeno da buttare Quindi vi dirò non mi dispiace affatto Devo parlare con Orlo Eccoti tu devi essere il nuovo arrivo Io sono Orlo Orlo tronfi piede Qua hanno tutti i cognomi che si chiamano Che finiscono con piede Io sono Lightning due piedi Perché ne ho due Piace di conoscerti Andiamo a vedere la tua nuova casa Ragazzi stiamo per scoprire la nostra casa da Hobbit Questa cosa mi mette un hype pazzesco Perché comunque il Signore degli Anelli non la serie tv Perché quella non mi è piaciuta Comunque i film ci sono affezionati Li ho visti fin da piccola Un po' come Harry Potter E devo dire che comunque il Signore degli Anelli è il Signore degli Anelli Non ho apprezzato l'Hobbit Come non ho apprezzato la serie tv Che stanno facendo per adesso Non riesco proprio a stare sveglia Allora entro in casa Non mi fa entrare in casa Wait C'è il tronco qua Come entro in casa? Non ho letto i dialoghi Non ho capito da dove devo entrare Forse perché è bloccata la porta Cioè non ho letto Vedete mi distrago Ah no ok Quella non era la porta L'ingresso Eccoti a casa Hobbit Era la casa della vecchia Ruby Era adorabile Ho molti ricordi felici Ma ora è casa tua Dai un'occhiata in giro Vediamo Vai in cucina e prepara del porridge Ora io devo dare un'occhiata in giro La prima cosa che devo fare è cucinare Perché? Ma come vi dicevo In questo gioco si può anche cucinare Perché è un così game A tutti gli effetti Credo che possiamo anche coltivare Però adesso Approfondiamo questo discorso Alcuni ingredienti devono essere preparati Nella postazione per cucinare Come il tagliere o la padella Prima di essere impiattati Man mano che andrei avanti nel tempo Avrai altre cose da cucina Ok? Prepara e impiatta tutti gli ingredienti Però molto figa questa cosa Io prima pensavo che Bastava selezionare e cucinavamo Invece no Come vedete adesso stiamo Impiattando e tagliando gli ingredienti Che è una cosa veramente carina Non si vede in tutti i giochi questa meccanica Quindi apprezzo Questa cosa della cucina Mi piace un sacco Soprattutto perché comunque a me I giochi dove hanno un minimo di cucina Mi piacciono Certo non vi aspettate chissà che cosa Però lo trovo veramente carino Anche perché ci saranno delle ricette Molto più elaborate questa era una ricetta Molto semplice Di solito spediamo degli inviti Per i banchetti condivisi Qui a lunghe acque Non piace seguire le buone maniere Ma tu non sei di queste parti E io ho fame Quindi procediamo Voleva solo scroccarmi un piatto di porridge Il tuo primo pasto a lunghe acque Lightning E il tuo forse Perché io non penso che sto mangiando Iniziamo il banchetto condiviso Sì Ora che stai partecipando a un banchetto condiviso Arrivato il momento di posizionare un piatto per orlo Servire dei piatti squisiti agli abitanti È il modo ideale per migliorare i rapporti E progredire Ok quindi è importante servire del cibo buono Questo gioco sta Come dire Mettendo in dubbio la mia abilità di cucina E tra l'altro sta dicendo che io avveleno I miei abitanti Non lo farei mai Non lo farei assolutamente mai Mi piace che puoi posizionare il cibo Di tua spontanea volontà In una posizione X del tavolo A tua scelta Perché ci guardiamo No Sono singolo Voglio rimanerci Mangia e basta Che poi Banchetto condiviso Però sta mangiando solo lui Qua tutti muti Giustamente Ok Allora Non so se ci sono le romance In questo gioco Abbiamo le amicizie In tutti i cosi Che comunque La maggior parte ci sono le amicizie Non so se si può Appunto avere figli E sposarsi Eccetera Però comunque L'amicizia c'è Allora Lui ha lo stomaco pieno E Ci dovrebbe regalare Un dono Uuuuh Una ricetta sbloccata E furbo Perché dice Io gli regalo una ricetta Così lei me la deve cucinare Niente rende più felice Un hobbit di un buon pasto Se vuoi stringere un'amicizia Prepara qualcosa di buono Da mangiare La gente alta Risolve le questioni Con spade Archi e frecce Noi le risolviamo Con un buon pasto Ma non è una cattiva idea Comunque Il che mi ricorda Una cosa Hai delle Della posta Avevo un messaggio per te L'ho messo nella tua Cassetta delle lettere Andiamo fuori Seguimi Vabbè Diciamo che la cassetta Delle lettere Se mi dici Dove era piazzata Cioè la potevo Tranquillamente Aprire da sola Però mi fa troppo Cioè Raga guardate come camminiamo Mi fa un botto ridere Carino Perché effettivamente Gli hobbit Oddio Non camminano forse Proprio così nel film Però i piedi Mi ammazzano proprio Cioè i piedi E la parte più bella Di tutte Allora Abbiamo una lettera Dal vecchio cotton Una fettoria Salve hobbit Sono il vecchio cotton Ti aspetto Al drago verde Assicurati di scrivere Drago verde Orlo Non L'edera Altrimenti si confonde Poi scrivi dal vecchio cotton Già ho capito niente Però va bene Comunque Devo dire che la mappa Non è nemmeno così piccola Queste sono tutte zone Che io posso raggiungere Perché si Posso mettere Una Come si dice Segnare la posizione Comunque Non ho capito Dove deve andare In realtà Perché Segui gli uccelli Fino al drago verde Ecco Questo è il drago verde Posso mettere Smetti di seguire No Segui Ok Ci devo andare a piedi Mi sa che dobbiamo camminare un po' Allora Io ho segnato la posizione Ma non mi fa vedere il percorso Cioè è difficile orientarsi così Allora Credo che debba andare No Io devo andare qua sopra Quindi tutto dritto E poi a sinistra Faccio schifo Orientarmi Quindi probabilmente Mi perderò Infatti Vedete Stavo già sbagliando Stavo già sbagliando strada Devo andare Da questa parte E poi a sinistra Quanto sono carine Le casette Raga Questo è un mercante Questa è la piazza del villaggio Che carina Qua sicuramente possiamo comprare cose Ad esempio posso parlare con lui Vediamo Chiama negoziante Ah questo è il vecchio Cotton Sì sono io Lightening due piedi Io sono il vecchio Cotton Della fattoria Cotton Ti diamo il benvenuto Sono certo che sarei felice qui Non posso trattenermi Ma sono sicuro che ti incontrerò spesso E mi raccomando Visita il Drago Verde Cosa mi vendi? Vabbè ovviamente Fattoria Cotton Vende cose Semi eccetera Però noi non abbiamo sbloccato ancora queste meccaniche Quindi direi di farci Gli obiettivi In silenzio Ok a me Cioè poi mi parte l'esplorazione Allora Nuovo abitante incontrato Ok Mi sa che siamo giusti Sì perché sono quasi arrivata Quindi salgo Dovrebbe essere qui Ecco Il Drago Verde Per tutto il burro Tu devi essere Lightening due piedi È un piacere conoscerti Io sono Lily Cotton O signora Cotton Vabbè la moglie di quello di prima Ok Abbiamo praticamente perso un libro Che conteneva qualcosa sui pesci E ce l'aveva un vecchio Naquercio Allora Dobbiamo trovare il vecchio Naquercio Sì però Io che cavolo ne so Chi è con Naquercio? Ah che carina questa funzione In pratica Ma man mano che andremo a visitare i posti O incontrare persone Vedremo nella mappa Le loro icone Infatti qua vediamo la signora Cotton E il signor Cotton Forse ho trovato il vecchio Naquercio Perché Se ci deve insegnare qualcosa Per quanto riguarda la pesca Sicuramente si troverà vicino A un lago Probabilmente Ecco vediamo chi è questo È lui Naquercio Ti ho trovato? Ti ho trovato Naquercio Sono Lightning due piedi Salve Come si fa a capire Il punto del fiume In cui sta nuotando Il signor Pesciolino? Dai mulinelli dell'acqua Dalla puzza di pesce Lo si vede Probabilmente Dai mulinelli dell'acqua Perché dalla puzza di pesce Non credo che sia una risposta saggia Esatto Cioè ragazzi Io e la pesca Siamo una cosa soltanto Cerca i mulinelli dell'acqua È lì che gioca il signor Pesciolino E mi ha regalato una canna da pesca I pesci lì sono tutti stupidi Ti troverai bene Cioè perché dovrei trovarmi bene con i pesci stupidi? Ma poi a me non mi interessa Io ma li devo mangiare i pesci al massimo Comunque la cosa principale Che possiamo pescare Perché abbiamo sbloccato una canna da pesca I pesci Vabbè ragazzi Nel così game Questa cosa è normale I pesci hanno delle stagioni Tempi atmosferici E il momento del giorno preferiti Quindi ci saranno dei momenti In cui potremmo prendere Un determinato pesce Ma se siete abituati a giocare A questa tipologia Beh è scontato No non mi serve nulla Voglio provare a pescare Quindi apri la ruota Degli strumenti Con la T Ammazza è gigantesca sta canna Cioè cavolo è una cariola Quindi mi metto qua Posso pescare da qua? Eccola è Lanciamo la nostra canna da pesca Possiamo scegliere la distanza Ah devo ottenere premuto sempre Allora io con i cosi game E la pesca Soprattutto all'inizio Ho dei traumi In qualsiasi gioco C'è sempre qualcosa che non va Forse devo trovare La sagoma del pesce Mi è venuto il dubbio E io come al solito Come in tutti i giochi In cui si pesca Non trovo i pesci Non trovo le sagome dei pesci Cioè comunque era Una zona abbastanza vasta E manca un pesce Un po' estrema questa cosa Aspetta No no L'ho lanciato troppo lontana Oh come la Come l'ha presa Cioè quindi praticamente lì Non potevo pescare Ok Ha boccato? Sta boccando Penso che il punto interrogativo È che il pesce ci ha notato Però non ha ancora boccato Vediamo Si vede che sta Si sta avvicinando Ok La pesca si divide in due aspetti Contrastare la direzione del pesce Per esaurire il suo vigore E tirare sul pesce Evitando che la tensione Spezzi la lenza Mi sembra tosta questa cosa Ah ok Devo semplicemente muovere il mouse Se la tensione è troppa Smetti di tirare la lenza Lo capiamo quando Ovviamente il cerchio diventa rosso Non è difficile Cioè non è difficile Penso che niente E nessuno Nessun gioco Può battere la pesca Di Sardio Valli A livello di difficoltà Quindi Tutto sommato Non è così difficile Abbiamo preso Il nostro primo pesce Vediamo se riesco a prendere un altro Perché me ne servono tre Per andare avanti con la missione Quindi con lo spazio Devo dire che è anche abbastanza carina Cioè bene o male ti intrattiene anche pescare Non è Non sembra impossibile Cioè come su Sardio Valli Ma Non mi lamento Cioè non mi dispiace affatto Ok Adesso abbiamo Preso un pinne blu Lo teniamo Mi manca l'ultimo pesce È giunta l'ora di dormire Quindi quando Scatta la notte Non possiamo Continuare a stare in giro Un po' Meccanica da Sardio Valli Cosa che non approvo tantissimo Perché se io voglio Far male Voglio esplorare Sono comunque cavoli miei Quando vuoi Ragazzi a casa E vai a letto Per una buona notte di riposo Se non vai a letto A un orario consolo Potresti dormire fino a tardi Quindi Probabilmente potresti perdere la giornata Il problema è che ci devo tornare a casa La casa è qua Però non capisco Cioè non mi piace Il fatto che io Metto un punto E non lo vedo Nella mappa Cioè allora Perché lo metto Se comunque Non riesco a capire Dove sto andando Se non ho un segnale Sulla mappa Questo intendo Va bene Ce ne andiamo a casa Prima che scatta Ovviamente La cosa della notte Sì Mi sembra che è Casa mia No è casa di Orlo Non è casa mia Ho sbagliato casa Scherzavo Orlo Questa è la mia camera da letto No Questa è sempre la cucina Dov'è il mio letto Ecco Un po' Un letto discutibile Però Andiamo a dormire Ovviamente Dormendo Avremo anche la possibilità Di schippare la giornata E vedere un po' Il di epilogo Della giornata Quindi quello che abbiamo scoperto Le cose che abbiamo raccolto In realtà Ho raccolto poco Perché non mi sono messa Ad esplorare Questa era Diciamo Una prima Occhiata al gioco A me sembra Veramente carino E' difficile trovare Un così game Un gioco del genere Bello Perché comunque Per un motivo O per un altro Sono troppo ripetitivi Poi annoiano Eccetera Devo ancora Sbloccare tantissime meccaniche Come coltivare Eccetera Però le prime impressioni Che ho avuto su questo gioco Sono veramente positive Peccato che esce A marzo Quindi Ci sono ancora Un bel po' di mesi Però Comunque farò una seconda parte Di questo video Che non so se pubblicherò Dove andrò A sbloccare Le altre meccaniche Fatemi sapere sotto Nei commenti Se vorreste vedere Comunque un altro video Che approfondisce Tutto quello Che non ho visto In questo video Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.